Il Consorzio di Tutela Vini Colline Terramane organizza a Teramo dal 2 al 7 marzo la seconda edizione dell'anteprima della denominazione dedicata alla stampa di settore nazionale e internazionale. Saranno oltre 30 i giornalisti provenienti dall'Italia e dall'estero che assaggeranno in anteprima le etichette di 25 tra le cantine socie del Consorzio di Colline Terramane Montepulciano d'Abruzzo d'OGC. L'iniziativa ha scelto un titolo accattivante, The Cool on the Hills. È il momento in cui la stampa, gli appassionati, gli operatori si interfacciano con i produttori per scoprire quali sono le annate nuove, più recenti e questa è anche l'occasione che abbiamo organizzato noi. Le caratteristiche del vostro vino quali sono? Si tratta, per chi non lo sa, di un Montepulciano d'Abruzzo, infatti il Montepulciano d'Abruzzo è ancora nel nome della denominazione che si chiama Colline Terramane Montepulciano d'Abruzzo d'OGC. Quindi è una declinazione del vino che gli abruzzesi conoscono molto bene, che ha un grande carattere strutturale, una grande capacità di invecchiare negli anni e crescere nel tempo. Il Colline Terramane, in virtù di una serie di combinazioni, l'uomo con il territorio, il territorio con l'uva, la storia con tutti e tre gli altri elementi, e qui acquisisce delle caratteristiche che sono una spiccata freschezza, diciamo in generale una grande eleganza. I produttori di vino sono rappresentanti e ambasciatori dei loro territori da sempre, però non possono fare tutto. E quindi è importante che l'Abruzzo si doti, secondo noi, di una struttura stabile di promozione del territorio, che duri negli anni, indipendentemente dalle amministrazioni, e che possa portare avanti nel tempo un programma di promozione del territorio, che rappresenti l'Abruzzo per quello che è, quindi che lo conosca e lo racconti per quello che è. Noi siamo uno dei tasselli di questo territorio e i nostri vini e i nostri territori risentono della percezione che all'esterno si ha del nostro territorio. I giornalisti che parteciperanno all'anteprima dei vini di Colline Terramane saranno inoltre coinvolti in tre esperienze di conoscenza gastronomica del territorio, tra tradizione e innovazione, tra cui un pranzo a cura degli allievi dell'Istituto Superiore di Popparozzi, che prepareranno una serie di assaggi tipici ispirati alla cucina terramana.